Ultime notizie. Su Marte c'è acqua liquida. Un nuovo mondo e nuove opportunità sono in attesa di essere sfruttate. Il titolo che vi presenterò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Offworld Trading Company. Questo gioco indie, creato da uno degli sviluppatori della serie di Saibel Azashion, è uno strategico molto diverso dai titoli che di solito giocate. Infatti qui non si combatte con fanteria, carri armati o daerei. In questo gioco la vostra arma sono i soldi. Diamo quindi uno sguardo al gameplay. Il tipo di partita più semplice, come in tutti gli strategici bellici, è la schermaglia. In questo tipo di partite vi potrete scontrare con avversari gestiti dal computer in una mappa casuale generata in maniera sempre differente ad ogni partita. La prima cosa da fare è piazzare sul suolo marziano il proprio quartier generale. Per scegliere un buon posto è bene esplorare la mappa alla ricerca di giacimenti di minerali utili a sostenere la propria economia. Il quartier generale va costruito il più vicino possibile alle materie prime che intende sfruttare, pena maggiori costi e rischi nel loro trasporto. Esistono tipi differenti di colonie che potrete gestire, con differenti quartier generali e tattiche. Il primo tipo che vedremo è la colonia costosa. Questo tipo di colonia è bene iniziarla vicino a dei giacimenti di ferro, in quanto l'acciaio che da questo si ricava è indispensabile per fare gli upgrade al quartier generale. Un quartier generale più grande permette di gestire un maggior numero di lotti di terreno, chiamati climb, e quindi anche più edifici sulla mappa. Ma ospitando più persone il giocatore consumerà anche una quota maggiore di materie prime di base. I climb di terreno una volta reclamati non si possono più togliere, quindi scegliete dove costruire con oculatezza. Tutti gli edifici costruiti in adiacenza al quartier generale non avranno costi di trasporto dei beni prodotti e questi fluiranno direttamente nel vostro magazzino a produzione ultimata. Gli edifici distanti invece necessiteranno di carburante per alimentare le navette che fanno la spola fra fabbrica e quartier generale. Più il giacimento è distante e maggiori saranno i costi di trasporto. Unica eccezione a questa regola sono le centrali elettriche che si possono costruire ovunque sulla mappa senza la necessità di un mezzo di trasporto per portare l'energia elettrica alla base. Altra peculiarità dell'elettricità è che, al contrario degli altri beni, non è immagazzinabile. Quindi, se ne producete in accesso, potrete solo venderla oppure buttarla via, con un'opzione che potete scegliere dal mercato. Il mercato, che è il menu che vedete a sinistra, è la vostra vera arma di questo gioco. Il vostro obiettivo infatti è quello di comparare le compagnie avversarie con i soldi che ricaverete vendendo i vostri beni. Il prezzo di ogni singolo bene varia in funzione della sua domanda e della sua offerta. Più una risorsa è richiesta e maggiore sarà il suo costo e viceversa. Ci sono dei beni di base che sono richiesti dalle colonie costose. Questi sono l'elettricità, l'acqua, il cibo e l'ossigeno, oltre al carburante per muovere le proprie navette sulla mappa. Se la vostra produzione di questi beni non sarà sufficiente a coprire la vostra domanda interna, i vostri abitanti li compreranno automaticamente al prezzo di mercato, facendovi eventualmente accumulare debiti. È possibile comprare o vendere pacchetti di risorse dal mercato premendo i tasti più e meno di ogni singolo bene col mouse. Se premete assieme anche il tasto maiuscolo sulla tastiere, comprerete o venderete pacchetti da 100 unità invece che 10. Sempre usando il tasto maiuscolo potrete anche rimborsare i debiti più velocemente usando l'apposita funzione. I debiti, se non rimborsati in breve tempo, crescono velocemente grazie agli interessi. I debiti in questo gioco non agiscono impedendovi di compare i beni di cui avete bisogno, ma, se lasciati ingigantire, hanno uno spiacevolissimo inconveniente. Nella schermata in alto a destra trovate il valore delle azioni della vostra società e di quelle a voi avversarie. Se accumulerete molti debiti le vostre azioni incominceranno a valere come la carta straccia, rendendo più facile ai vostri avversari acquistare la vostra compagnia e a portarvi quindi al game over. Il valore delle azioni è anche influenzato dalle leggi della domanda e dell'offerta. Più un'azione è scambiata e più il suo prezzo sale. Acquistare le azioni della propria azienda è quindi un modo per difenderne il prezzo. Acquistare azioni di aziende avversarie invece ne facilita il vostro futuro acquisto, abbassandone i costi di acquisizione. In gioco a volte compariranno anche casualmente delle aste. In queste aste verranno messi in palio lotti di terreno, che non vi costeranno climb, ma anche cose che vedremo dopo come le tecnologie o servizi del mercato nero. Come nelle aste reali, il giocatore che offre di più degli altri si prende il servizio in palio. La cifra spesa nell'asta si va poi ad aggiungere ai debiti della compagnia vincitrice. Come forse avrete dedotto, le aste possono essere un'ottima arma sia per acquisire servizi utili, ma a caro prezzo, sia per far incrementare i debiti di un avversario molto determinato a un certo acquisto. Non si gioca sempre alla rialzo per una vittoria. L'altro vantaggio delle aste è anche la possibilità di comprare beni senza necessità di contante, visto che il loro costo incide sul debito dell'azienda, rinvorsabile con calma, e non sul suo cash. Ora torniamo un attimo indietro nella partita per rivedere come funzionano le varie fabbriche. Il primo bene da estrarre è il ferro che, come l'alluminio, si estrae grazie alle apposite miniere. Il ferro viene poi convertito in acciaio dalle acciaierie. Quest'ultimo materiale serve per costruire quasi tutti gli edifici del gioco. Ogni giacimento, di qualunque natura può essere povero, di media grandezza o ricco e questo ne influenza la velocità di estrazione. Inoltre edifici dello stesso tipo costruiti vicini sono più redditizi che isolati. Questo riguarda sia gli impianti estrattivi sia le fabbriche. Anche l'acqua si può estrarre dai suoi giacimenti con dei pozzi, ma è anche possibile ottenerla tramite un condensatore di ghiaccio. Quest'ultimo edificio è però molto meno redditizio e richiede la luce solare per funzionare. Quindi di notte è inutilizzabile. Il cibo si ottiene dalle fattorie idroponiche che necessitano di acqua per far crescere le culture. Anche carburante e ossigeno si ottengono dall'acqua usando un reattore elettrolitico. Le centrali elettriche più redditizie del gioco sono quelle geotermiche, che però possono essere piazzate solo sopra gli sfiati geotermici rappresentati sulla mappa comestrie ladiche. Avere una propria centrale geotermica è spesso la chiave per la vittoria. Sopra questi sfiati non può essere costruito nessun altro tipo di edificio. Altri modi più economici, ma meno efficienti, per ottenere elettricità sono le centrali eoliche e quelle solari. Entrambi i tipi di impianti sono più efficienti se piazzati ad alta quota. Le centrali solari ovviamente di notte non funzionano. Il silicio e il carbonio si possono ottenere dai rispettivi giacimenti usando le cave elementari. Sono materie prime importanti per la fabbricazione di altri beni e anche a volte utilizzati come materiale da costruzione. Il carbonio si può ottenere anche dai condensatori di ghiaccio secco, i cui limiti sono identici all'analogo impianto che ottiene acqua dal ghiaccio normale. Il vetro è prodotto dalle vetrerie usando il silicio ed il carburante come materie prime. È un costoso materiale da costruzione, usato insieme ad acciaio ed alluminio anche per migliorare il quartier generale. I prodotti chimici sono prodotti dal laboratorio chimico usando carbonio e carburante. Sono un prodotto indispensabile per sviluppare i brevetti e migliorare gli impianti produttivi. Vedremo dopo questi due aspetti del gioco. I componenti elettronici si producono usando carbonio, silicio ed alluminio. Sono il bene ed il materiale da costruzione più costoso del gioco. Ora passiamo agli edifici speciali. L'array hacker, che vedete ora in azione, permette, spendendo dei soldi, di manipolare i prezzi del mercato. Per fare questa procedura ci mette un po' di tempo. Diminuire il prezzo di un bene costa più che aumentarlo. L'ufficio brevetti permette, utilizzando dei prodotti chimici, di ottenere per l'appunto brevetti. I brevetti sono particolari tecnologie che, una volta ottenute per proprio conto, non sono più acquistabili da un avversario se non acquisendo tutta la vostra azienda. I brevetti disponibili nel gioco sono questi. I superconduttori raddoppiano la produzione di energia delle centrali elettriche connesse direttamente col quartier generale. La cripta energetica permette di immagazzinare l'energia elettrica ottenuta dai propri impianti. Gli strumenti finanziari fanno guadagnare alle vostre casse un importo pari al 25% degli interessi sul debito di ogni vostro avversario ogni giorno. Il motore ad acqua fa consumare acqua invece che carburante per far muovere le vostre navette. Il moto perpetuo di mezzo è il consumo di energia elettrica. La realtà virtuale raddoppia i guadagni della cupola del piacere edificio che vedremo dopo. Le nanotecnologie permettono di riciclare materiali degli edifici demoliti. La fusione fredda fa alimentare gli edifici ad acqua anziché utilizzando elettricità. Il lavaggio del carbonio fa ottenere carbonio direttamente dall'atmosfera gli edifici che lo utilizzano come materia prima. La perforazione silenziosa permette di sfruttare come giacimenti anche i lotti di terreno adiacenti a un giacimento. Le macchine pensanti riducono del 50% i danni da azioni di sabotaggio, che vedremo dopo parlando del mercato nero. Ed infine il teletrasporto permette di spedire i vari beni prodotti direttamente al quartier generale senza usare navette e carburante, senza rischi a flusso continuo. Il laboratorio di ingegneria permette, sempre usando prodotti chimici, di aumentare la produzione di ogni tipo di impianto. Al contrario dei bravetti queste migliorie sono acquisibili anche se già acquisite da altri giocatori. La cupola del piacere permette di guadagnare denaro tramite le persone che la frequentano. Per questo motivo rende più soldi se piazzata vicino al centro della mappa, dove c'è la colonia principale e se non è in competizione per i clienti con altre cupole del piacere gestite da altri giocatori. Anche la grandezza di questa colonia ovviamente influenza i guadagni. Usata in coppia col bravetto della realtà virtuale citato prima, permette davvero di fare dei bei soldoni. Il mercato degli altri mondi è l'ultimo edificio speciale del gioco. Mentre gli altri edifici speciali si possono costruire con un quartier generale di almeno livello 2, quest'ultimo edificio richiede il livello massimo, che è il quinto. Ed è possibile averne solo due per ogni quartier generale in proprio possesso. Questo mercato permette di vendere merci nel mercato interplanetario, che di solito è più redditizio di quello marziano. I pacchietti di merci venduti sono di 100 unità alla volta e la vendita ha un costo aggiuntivo di 20 unità di carburante e 20 di alluminio, necessari per la costruzione del razzo. Il processo di decollo del razzo dura circa un minuto, allo scadere del quale i soldi vengono accreditati alla propria azienda. Nella schermata di questo mercato è possibile vedere anche il guadagno o la perdita prevista nel vendere le 100 unità negli altri mondi rispetto a Marte, non sempre le grandi distanze sono redditizie. Anche se in questo gioco non si fa formalmente guerra violenta contro gli avversari, esiste comunque il modo di causargli danno con azioni di sabotaggio. Il mercato nero, raggiungibile nel menu in basso a destra, permette proprio di comprare sotto banco questo tipo di servizi. Il prezzo di questi servizi, neanche a dirlo, varia anch'esso seguendo le leggi della domanda e dell'offerta. Quindi più un determinato servizio è richiesto è più questo costerà. I servizi utilizzabili sono diversi ad ogni partita ed alcuni si possono ottenere solo tramite le aste. I servizi ottenuti dalle aste inoltre spesso non sono contrastabili dagli avversari usando le squadre di picchiatori. Le gun squad, per l'appunto, sono un altro servizio comprabile in tutte le partite nel mercato nero e servono per fermare azioni di sabotaggio avversarie o anche per impossessarsi del servizio che l'avversario ha voluto usare contro di voi. Nel mondo reale queste squadre sono usate illegalmente dai datori di lavoro appunto per sedare gli animi degli operai in rivolta e sono costituite da teppisti e delinquenti vari. Altri servizi spesso disponibili nel mercato nero sono I pirati, che consentono di razziare le navi nemiche, le tempeste elettromagnetiche che disabilitano edifici e navette, gli ammutinamenti per impossessarsi di un edificio avversario per un po' di tempo, gli attacchi dei nemitardi e la corruzione delle Nazioni Unite, che consente di ottenere climb aggiuntivi. In gioco sono disponibili quattro differenti tipi di quartier generale e, a seconda di quale si sceglie, si avranno differenti benefici. Ora ho scelto il quartier generale robotico, prima avevo usato sempre quello costoso. Il quartier generale costoso ha tre bonus. Un punto climb in più per ogni upgrade del quartier generale, costo in acciaio degli edifici ridotto del 50% e velocità delle unità incrementata del 50%. I robot invece hanno nessun consumo di risorse vitali, cioè di acqua, cibo, ed ossigeno. Le navette usano elettricità invece che carburante. Efficienza raddoppiata per gli edifici immediatamente adiacenti al quartier generale. Il vetro non è necessario per gli upgrade del QG, si usano invece componenti elettronici. Bonus per le fabbriche adiacenti alle fonti di materie prime. Le fabbriche di componenti elettrici sono il doppio più veloci. Di contro robot hanno un grosso malus. Utilizzano per sopravvivere i componenti elettronici, la risorsa più costosa del gioco. Il quartier generale degli spazzini permette di usare carbonio anziché acciaio per costruire gli edifici, permette di conoscere in anticipo le variazioni di prezzo nel mercato e permette di usare il mercato nero più di frequente. L'ultimo tipo di quartier generale è quello scientifico. Gli scienziati hanno anch'essi tre bonus. La possibilità di costruire industrie sopra dei giacimenti di materie prime in modo da prendere gratuitamente da questi materiali necessari al loro funzionamento, una maggior resistenza alle azioni di sabotaggio ed infine un costo di brevetti e potenziamenti ingegneristici ridotto del 50%. In questa partita sto giocando in multiplayer. Purtroppo una pecca di questo gioco è proprio la scarsità dei giocatori. I motivi di questo problema li vedremo meglio nelle considerazioni finali sul titolo. Accidenti. Stavolta ho perso miseramente. L'ultima modalità di gioco ancora da vedere è la campagna. È possibile giocare la campagna con ognuna delle quattro classi di quartier generale. La campagna in realtà non ha una vera e propria storia, ma è un torneo in cui le squadre si scontrano per capire chi acquisirà tutte le altre. Le partite nella campagna però sono radicalmente diverse da quelle in modalità schermaglia. In primo luogo c'è da dire che la campagna è fatta da un numero finito di match, ambientati in diversi luoghi di Marte. I primi serviranno a fornire un budget alle varie compagnie, i successivi sono match eliminatori in cui verranno fatte fuori le compagnie col budget via via più basso e infine il torneo si conclude con una partita non dissimile da una schermaglia, in cui ognuna delle quattro aziende finaliste cercherà di acquisire le altre. Altra differenza con la schermaglia è che, prima dell'inizio di ogni match, si dovrà non solo scegliere il luogo dove competere, ma anche gli operai da utilizzare nella partita. Come avete visto prima, ogni edificio ha un suo tipo di operaio e ognuno di questi individui pretenderà di essere pagato coi soldi guadagnati fra un match e l'altro per lavorare. Se una compagnia assume un operaio addetto ad un determinato impianto, ad esempio il pozzo d'acqua, questa compagnia potrà costruire pozzi d'acqua nella partita altrimenti no. Un numero maggiore di operai dello stesso tipo fa aumentare l'efficienza dell'impianto gestito da più persone. Nota. Non tutti i tipi di operai sono acquistabili in ogni match. Anche le condizioni di vittoria sono diverse nei match della campagna rispetto ad una schermaglia. Ad eccezione del match finale, infatti il vostro obiettivo non sarà comprare le azioni avversarie per poi acquisire i contendenti, ma invece ingrandire sempre più la colonia al centro della mappa. Ingrandire questa colonia richiede materiali da costruzione, denaro e risorse per mantenere ogni edificio in proprio possesso. Gli edifici coloniali sono di quattro tipi. Modulo abitativo, officina, fabbrica e ufficio. Perché la colonia si ingrandisca, e quindi attiri più abitanti, il numero di posti di lavoro deve coprire quello degli abitanti. La compagnia che fornirà più edifici alla colonia sarà quella che vincerà il match e che guadagnerà più soldi nella rank generale della campagna. Chi vince un match inoltre ha anche diritto a perca aggiuntivi, come servizi del mercato nero, nuovi operai gratuiti o altri bonus. Concludo il video come al solito con le considerazioni finali. Ho scelto di mostrare quest'asta perché questo raro servizio del mercato nero è un richiamo diretto al vecchissimo gioco da cui questo titolo ha preso spunto. Il gioco in questione si chiamava Mule, ed aveva lo stesso obiettivo di Offworld Trading Company. Le differenze. Il pianeta dove era ambientato non era Marte, ma Itara. I Mule in questo vecchio gioco erano unità di lavoro robotizzate usate dalle varie compagnie per procurarsi le risorse e il nome Itara altro non è che l'anagramma della console su cui il gioco girava. La Tari. Quindi sì, Offworld Trading Company in realtà non è un'idea originale come chi lo conosce spesso crede, ma un remake. Lo ha dichiarato il suo stesso autore. I problemi di questo titolo ora in fase beta? Beh, innanzitutto come già detto la mancanza di giocatori. Mancanza sicuramente da attribuire alla peculiarità del prodotto, tutt'altro che semplice al contrario di quanto detto da alcuni, così come alla mancanza di informazioni su come giocare. Molte cose che avete visto in questo video le ho dovute imparare da me perché manco c'erano nella viki inglese del gioco. Ma il principale problema è però secondo me un altro, e ve lo sbatto a schermo ora. Come cazzo pensi di vendere con successo un titolo così elitario ad un prezzo simile? Le cose sono due. O sei una persona che vuole tenere il prezzo alto nel beta testing e poi abbassarlo dopo in modo da avere solo tester fidati. Come è stato fatto ad esempio con Planetary Anni Lashon. Oppure più facilmente sei solo un pirla montato come tanti sviluppatori indie. Non devo dirti cosa devi fare, ma se vendi solo nel periodo dei saldi forse qualche domandina non te la fai. In tutta sincerità a me il gioco è piaciuto, ha un gameplay molto particolare che non esiste in nessun altro titolo recente e non ha praticamente bug, ma se volete comprarlo per carità fatelo solo con i saldi, come quelli che ci sono in questi giorni su Steam. Se volete il mio parere, questo gioco 20 euro li vale tutti. Ma 40 assolutamente sono un furto. Se volete invece far abbassare il prezzo, beh caro sviluppatore, non è stata una buona idea fare un gioco che insegna a muoversi in campo economico. Ora sapete tutti cosa fare. Potete diminuire la domanda non comprando il titolo e sperando che a furia di non vendere il nostro amico rinsabisca, mettere il gioco nella lista dei desideri senza comprarlo, oppure usare il mercato nero che ognuno di voi su internet sa come raggiungere per ottenerne una copia. Per evitare accuse. Io il gioco l'ho preso originale. Arrivederci alla prossima.